Oltre 70 giornate di eventi con performance teatrali, musicali, ballo e mostre d'arte. Allo Zenit, napoletani per costituzione. Il tema del programma della rassegna Estate a Napoli 2016, presentato questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. Un modo per confermare e rilanciare i risultati ottenuti negli ultimi anni dal capoluogo partenopeo, rilanciando una cultura radicata nel territorio in forma artistica e creativa, con il grande patrimonio architettonico e naturale a fare da scenario. Dal maschio Angioino al Castel dell'Ovo, napoletani e turisti potranno ammirare parchi, piazze e chiese monumentali, che dal 22 luglio fino al termine di settembre ospiteranno spettacoli di ogni genere. A raccontare l'iniziativa l'assessore alla cultura del Comune di Napoli, Lino Daniele. Sono oltre già 200 eventi culturali, musicali, artistici, filosofici, quindi davvero allo zenit questa nostra città con i suoi valori costitutivi, quelli che la caratterizzano come grande capitale culturale universale e che lavora per gettare le basi di un nuovo umanesimo, di un neo-umanesimo che ne riconfermi il ruolo di grande città della pace, dell'incontro, del dialogo, del confronto, della democrazia, della partecipazione dal basso per costruire un mondo più giusto, un'Italia più libera, un'Europa che riscopra le sue radici, i suoi valori oltre le divisioni e gli egoismi.